Sono arrivati i nuovi cappelli Alviero Martini prima classe, scopriamoli assieme. Dopo il modello a pescatora è il turno di quello baseball, perfetto per look aggressivi, declinato anche nella versione con la classica mappa geografica. Prima classe ha pensato anche alle sognatrici, con il cappello a falda larga, ideale per le giornate stili assolate, oppure il mitico borsalino che dona sempre un tocco elegante. Non può mancare il modello d'avventura per le viaggiatrici incallite. E tu, quale preferisci? Scrivilo nei commenti!